Com'è la convocazione ufficiale? Com'è la convocazione ufficiale? Com'è la convocazione ufficiale? Da anni e anni non l'hanno nemmeno cominciato. Quindi se il Presidente del Consiglio vuole cambiare verso noi siamo pronti, noi dialoghiamo col governo ogni giorno perché siamo un'istituzione. Però siamo un'istituzione che non cancella la democrazia, che rispetta il suo territorio, rispetta la popolazione e soprattutto vuole ripartire in modo trasparente. Guardate, se non ci fosse stata la battaglia del Comune di Napoli sarebbe passata così sotto traccia una delle operazioni più sporche che le istituzioni abbiano potuto mettere in campo danneggiando una comunità, una popolazione e un territorio. Quindi questa è la nostra posizione e lo diciamo con molta chiarezza. Vedo che De Vincenti parlando della città di Napoli parla di pagliacciate. Secondo me deve portare rispetto per questa città. Loro sono molto grandi rispetto a noi. Hanno il potere finanziario, certe volte hanno il potere mediatico, stanno al governo del nostro paese. Noi non abbiamo questa potenza, però abbiamo una grande dignità, umiltà e determinazione. Quindi la nostra non è una sfida. La nostra è la difesa della città nel dialogo istituzionale ma senza girarci dall'altra parte. Soprattutto quando vediamo che si mettono in campo operazioni torbide. Quindi se loro hanno paura della verità, mi dispiace per loro. Noi stiamo qua, stiamo a Napoli.